Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sampdoria Juventus finisce 1-3 e portiamo a casa una vittoria importantissima, nettissima e meritatissima. Arriva anche grazie a dei gol abbastanza fortunosi, perché comunque il primo gol del vantaggio è un autogol. Il gol del riavvicinamento della Sampdoria nel secondo tempo è di fatto una devezione e nulla di che. Il secondo gol nostro è un rigore, il terzo gol non è un tiro ma è un colpo di testa molto buono di Morata che però trova anche un po' l'aiuto del portiere che la manda in porta, che la devia in porta. Però al di là di quello che poi è il tipo di gol che arriva, è una partita che la Juventus ha giocato molto bene, grazie anche a alcuni interpreti che hanno fatto molto bene e ha meritato molto molto di vincere. È una partita meritatissima, io penso che poi le vittorie sono meritate anche se arrivano un po' in modo fortunoso, ma oggi non è solo stata la fortuna, diciamo, anche se è un concetto un po' particolare, a portarci la vittoria. Ma anche l'impegno e il rendimento dei singoli, perché poi se guardiamo alle presentazioni di alcuni singoli vediamo presentazioni molto pesanti, importanti oggi, che hanno portato inevitabilmente al capovolgi della situazione stessa. È una partita che la Juventus rispetto alla Spezia, ha giocato simile se non fosse per un fatto. La condizione fisica oggi era molto che ottimale, in secondo tempo non abbiamo avuto il crollo del secondo tempo di Spezia, perché? Perché di base, fondamentalmente in mezzo a questa settimana, non c'è stata un'impresa settimanale. Il riposo è servito e si è visto, siamo comunque contati come una settimana fa, ma con una partita in meno di un'altra settimana. L'altra volta venivamo dalla partita contro la Fiorentina, totalmente diverso il contesto, un contesto in cui la Fiorentina ci ha portato grande dispendio di energie, oggi invece non c'è stato questo dispendio tre giorni fa, pertanto la Juventus, anche in pochi a disposizione, ha fatto molto molto meglio dal punto di vista fisico. E si è visto perché in secondo tempo la Juventus non ha rischiato di perdere. Certo ci si è avvicinato alla Sampdoria a un certo punto con il 2-1, ma non per un contesto, un concetto di stanchezza, quando piuttosto un fallo, una punizione fortunosa che poi viene anche in qualche modo deviata. Certo mi ha rischiato con il rigore della mano di Di Ravio, ma non per un discorso di stanchezza, sono disattenzioni, sono falli, insomma ci possono anche stare. Quindi la differenza è questa. Certo la Sampdoria secondo me era una squadra intanto più pericolosa della Spezia, perché giocava in casa, perché ha degli interpreti, degli individuali più importanti, penso a Caputo, a Quadrelli, eccetera, eccetera. E quindi io inizialmente temo molto di più questa squadra di quella della sottocorsa settimana. La differenza però è appunto questa. Oggi i giocatori erano più carichi fisicamente e quindi anche mentalmente. La concentrazione c'è stata per tutti i 90 minuti. La Juventus ha concesso anche alla Sampdoria qualcosina di più, perché poi la Sampdoria è stata anche pericolosa. Penso non solo al rigore che poi pare a Szczesny, ma penso anche a un tiro di dissenso in primo tempo e a qualcosina d'altro. Nel resto della partita anche la Juventus ha avuto occasioni, però la differenza è che la Juventus oggi ha sofferto meno. Ha sofferto più consapevolmente, che è un po' quel tipo di sofferenza positiva che spesso la Juventus ci regala. Cioè soffriamo, però in questa sofferenza troviamo comunque la quadra per vincere e meritare di vincere. Sono contento per l'atteggiamento. Oggi sono veramente contento. E' chiaro che poi contro il Villagreal mercoledì servirà a qualcos'altro, perché l'atteggiamento va bene, la condizione fisica così così com'è è accettabile. Però poi chiaramente tante defezioni potrebbero dare dei limiti dal punto di vista del cambio di gioco o dovessimo dare una svolta alla partita. Però chiaramente questo è un discorso che lasciamo a parte. I singoli, voglio parlare dei singoli soprattutto, perché sono dei singoli che hanno fatto meglio di altri. Cioè sono tutti oggi, sono felice di tutti, anche la mente del Rabiot che ci porta a questo rigore, ma devo dire che il Rabiot al di là del rigore ha fatto una buona partita, anche se noi fossilizziamo tutta l'attenzione su questa mano in area di rigore. I singoli sono soprattutto due, tre. Il primo è Morata. Morata, man of the match, non solo per i due gol, ma anche per la prestazione che ha fatto, atleticamente, tecnicamente, tatticamente. Ha fatto delle prestazioni sublime facendo partire i contropiedi, provandoci, un giocatore che oggi stiamo ritrovando e che per questo motivo io ho anche un pensierino sul riscatto e ce lo farei. Il secondo è Arthur, che ha dominato il centrocampo. È stato il metronomo del gioco della Juventus oggi. La Juventus ha avuto in diverse occasioni la palla e ha anche gestito la palla per un po' rifiatare, quindi Arthur è servito anche molto a questo. E l'altro è Szczesny, che chiaramente fa una parata molto buona al primo tempo su Sensi e una parata sul rigore, che poteva essere un rigore molto pericoloso, alla luce di quello che è stato poi il gol su delle azioni su punizione. Quindi è chiaro che lì salva anche la partita e ha un potenziale pareggio che poteva arrivare a quel punto. Chiaramente anche gli altri molto bene, anche gli stessi Ken che spesso vengono giustamente anche un po' attaccati e anche gli altri. Devo dire che però la cosa che mi è piaciuta di più, grazie rispetto alla condizione fisica, io nella partita contro la Spezia, questo è il secondo tempo orribile, non l'ho imputato come colpa al fatto che Juventus non fosse più concentrata perché non volesse concentrarsi. Quanto per un discorso legato alla condizione fisica che ormai praticamente erano lessi, no? E appunto per questo la condizione fisica quando è carente porta anche una mancanza di concentrazione, una componente prettamente mentale. Oggi che queste condizioni c'erano, quando prendiamo il gol del 2-1 continuiamo a crederci, arriviamo al 3-1, che è una cosa che spesso viene imputata da Juventus, cioè non provarci di più una volta raggiunta la vittoria, il minimo, lo stretto indispensabile. Oggi lo stretto indispensabile anche col 2-1 c'era, ma al posto di in qualche modo coprire gli spazi, coprirsi dietro fondamentalmente e non cercare niente, abbiamo cercato ancora e abbiamo trovato un gol. Quindi questo giocamento è frutto della buona condizione atletica, ma anche della buona condizione mentale. È il modo migliore da questo punto di vista di arrivare all'impegno di mercoledì. Unica pecca, ma che non dipende da noi, è la questione legata agli infortuni. Questo potrebbe darsi problemi perché poi chiaramente da qui a mercoledì sono tre giorni e ci sono chiaramente dei cambi che potrebbero essere funzionali al buon proseguimento della partita e della qualificazione. Detto questo, molto contento, non era scontato vincere a Genova contro la Samp, quindi doppia contendenza per questo. Guardiamo le partite degli altri. Guardando le partite di questa giornata, io vorrei sottolineare la partita di Verona-Napoli, perché potrebbe essere la vera partita importante da tenso a Tokyo. Ma non diciamo altro, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo vinto e quindi lasciamo agli altri suicidarsi, come ultimamente stanno anche facendo un po' quella. Aspetti i commenti qui sotto, come sempre, forza Juve alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo, un viso da comparsa.